Ciao a tutti! Oggi voglio mostrarvi come potrete realizzare questo make up diciamo molto fantasioso per Halloween perché ho pensato alle streghe, il gatto della streghe quindi mi è venuta questa idea di fare questi occhi gialli lo so che ci sono anche le lenti a contatto per fare gli occhi da gatto ma hanno due difetti uno sono estremamente costose e l'altro è che si rigirano nell'occhio quindi potreste trovarvi con la pupilla per orizzontale invece che per verticale allora ci sono due dimensioni di questi occhi perché questo è più grande e questo è più piccolo questo qua è per la sera e questo qua è per il giorno si lo so sto male aver pensato di fare due dimensioni differenti ma alla fine è così di notte la pupilla si ingrandisce fino a prendere quasi tutto l'occhio del micino e niente questo è il risultato finale spero che vi piaccia e che seguirete il tutorial se vi piacciono questi tutorial ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di commentare qua sotto buon video a tutti, ciao! ok, avevo messo il primer ma non avevo fatto partire la registrazione comunque prendo un ombretto matte giallo ma voi potete usarlo azzurro, verde di che colore volete insomma che sia alla fine l'occhio e lo applico su tutta quanta la palpebra mobile poi prendo un eyeliner liquido questo qui è della Deborah e traccio una linea abbastanza spessa in modo da contornare diciamo la parte superiore di quello che sarà poi il nostro occhio e lo vado ad allungare per dargli appunto l'effetto da miciogatto coloro il triangolo diciamo che allunga l'occhio in modo che la mia palpebra, non che il mio futuro occhio abbiano una forma diciamo rotondeggiante faccio una linea avvicina al dotto lacrimale nera e faccio un'altra linea molto molto fine in basso e poi traccio una linea centrale e la vado ad allargare da parte in modo da creare la mia pupilla da giorno essendo questa più fina questo è il risultato finito sulle labbra ho utilizzato il rossetto della Kiko Black Cherry se non sbaglio si chiama Black Cherry e l'avevo anche registrato ma per sbaglio ho cancellato la registrazione ma come non sono sdatta io? vabbè comunque questa qui è la classica immagine fissa per poter scegliere l'anteprima del video spero che tutto questo vi sia stato utile e che vi abbia dato un po' di ispirazione per Halloween buon Halloween a tutti! grazie! 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 grazie!